Caro Edo, quando hai tirato sulla testolina da solo per la prima volta, io e mamma abbiamo pianto. Ma di gioia, tranquillo. Quando sei arrivato non è stato facile. Ti allattavo e non mi guardavi. Quando ci hanno detto che non avresti mai visto, mai parlato, né camminato, ci siamo sentiti persi. Poi però abbiamo incontrato Loretta, una delle persone che ti ha aiutato ad aprirti al mondo. Con Manola invece ha imparato a dare i baci e gli abbracci. Edo, noi per te abbiamo dovuto cambiare vita, ma io sono diventato il papà e l'uomo che volevo essere. Ci hai fatto diventare una famiglia. Una di quelle belle. Ma non è tutto merito nostro. Ci sono tante persone che ci hanno dato la forza di credere nel tuo futuro. Sono le persone della Lega del Filo d'Oro. E tu, ci credi nel futuro di Edoardo? Se sì, unisciti a noi per donargli il sostegno di cui ha bisogno ogni giorno. Il tuo amore si sommerà a quello della sua famiglia e all'aiuto della Lega del Filo d'Oro per una vita oltre la sindrome SCN8A. Di sì alla vita di Edoardo e a quella di tanti altri bambini sordocechi e con gravi disabilità. Vai ora su unmondodisi.it